Blazer, ah no, qui è un'altra intro E sa tutti bella faccina, no, è un'altra intro ancora E sa tutti, no, no, è un'altra intro Va bene, e sa tutti brutti, no E sa tutti belli che brutti, ah no, è già stata le mamme Ah sì, potrei dire Brum, brum, bum, bum, eccomi qui, qui, qui Eccomi qui, 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 qui Oggi siamo in un video con mia madre Che adesso non c'è, ma un attimo arriverà Che io ho già fatto il video, però devo giocare l'intro E in pratica Rimbambi, rimbambi, rimbambà In pratica Mi dovrò dare una posizione a fare La dovrò fare, questa qua è la serie E quindi vi lascio la intro Questa qui è la intro A Goku vuole lanciare un'onda energetica piena potenza Ma cosa fa? È impazzito, è troppo pericoloso Scommetto che non avrai il coraggio di lanciare davvero la tua onda Goku, finiresti per distruggere il pianeta e tu lo sai Ma ok, non la lancerà, vedrete, non distruggerà la terra Perché dovrebbe farlo, scusate, farà solo una pinta Cosa fa? È impazzito Oh no, ti prego papà, cosa stai facendo? Oh no, non posso crederci Finalmente la potentissima onda energetica Stavo dicendo, ho sbagliato a fare tutto Perché la non è fatta in alto, quindi la facciamo in un'altra zona Andiamo in alto e facciamo semplicemente il comando Slash Set Ma comunque non è sparito ovviamente Stai ancora qui, però Stai un attimo mangiando E tanto io sto costruendo Ovviamente abbiamo tutto il tempo che ci pare Pa Pre Pa Pre Do Ble Doble Doble Slash Ho Den Lab Che mi piacerebbe Un blocco, perfetto Iniziamo a fare di nuovo la nave Tanti mancano, sono facili da fare le navi Recon Potremmo anche copiare il design che io sto facendo Deve fare Però ho fatto troppo alto Ah no, no, no Non è normale Non è normale Non è normale Io copio il design di una barca normale di Minecraft Perché direi che serve copiarla Quindi questa qui sarà la barca E qui io bloco Come stanno tutti in Minecraft È un pochino difficile falsare e chiudere le cose Servono i pistonsi E quindi i pistoni Linguaggio italiano Andrea ricorda di mantenere nel video almeno il linguaggio italiano Non parlare a casaccio Non parlare a casaccio 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 Questa qua è la regola più importante nei video Non parlare mai a casaccio Ma mamma è l'unico modo per farlo Ma va bene se sotto la barca ci sono piccoli meccanismi Sì Eh, anche se non si può fare Io ogni passo che faccio Ti faccio sapere Tipo se raccassava funzionare gli oblo Queste cose Se io dovrei fare questo circolo Ok Gli oblo dovrebbero funzionare Dimmi tu se vanno bene gli oblo Gli oblo sono chiusi Ora è aperto Chiusi Aperto Gli oblo sono aperti E così qua funziona No, mo È più facile la maremma Del mare Perché siamo nel mare Eh, nel mare È più facile fare molti meccanismi Anche se con l'acqua si potrebbero rovinare Quindi è un bel problema Ma quanto sarà dura sto video? Almeno un attimo Tre minuti Niente da niente Proprio niente da niente Copriamo i circuiti Che altrimenti si rompono con l'acqua Niente da niente Copriamo i circuiti Che se altrimenti si rompono con l'acqua È bellina Bellina Non bellissima Perché ora noi dobbiamo fare un meccanismo Meccanismoso Ah, comunque mamma Ovviamente faccio tutta una le Cioè un meccanismo per azionarlo Ok Perché altrimenti non si può azionare Ma automaticamente Però di notte di solito c'è la camera Giusto? Sì Allora faccio che si azionate Soltanto di notte Ma altrimenti è più difficile E impossibile Quindi faccio che di notte Si accennerebbe Ovviamente la farò Piccolina l'alta marea Ovviamente Non tutto il mio mondo Di minecraft Ok Cioè di due blocchi L'alta marea Ok E' un casino toglierla E non voglio Questa qui Deve essere almeno Granita la barca Deve scorrere verso tutta la barca Storos Deve ovviamente scorrere Tutta la barca Tutto intorno alla barca Deve scorrere Da pure di notte Facciamo i comandi zozi Che funziona sempre I comandi zozi Puoi ricordare anche Di tenere Family Friendly Family Friendly Il Family Friendly Perché Andrea Andre di Giorgio Avrà una famiglia E questo qui Basterebbe mettere Dovrebbe bastare mettere Uno scanner digitale Che mamma mia L'ha attivato Ma non ci avevano Dentro l'acqua Perché devono fare di notte Lo scanner digitale Che deve anche attivare Questo Che deve attivare i pistoni Che sono dall'altra parte Morta Morto Penno Morto Di Andrea E di Andrea Nel mondo ce ne sono Tanti 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 Andrea Nel mondo Tanti Andrea Nel mondo Di Minecraft Ecco la canzone Di Barbara Tanti Andrea Nel mondo Di Minecraft Tanti Andrea Nel mondo Di Minecraft Vado a stand Dei panni Ma ma qua Praticamente Finito E tu Dov'è Dov'è Che scherzo Cioè Praticamente Veramente Finito Cioè Mi manca Ok grazie Comunque Che aspetti Ma Vediamo Questa cosa La finiamo Una volta Per tutte Mi mancano Soltanto Quattro secchi Ho No In realtà Due secchi Ho fatto Ora Speriamo Che tutto Funzioni Ora Di scuola E tutto E tutto Vado Per rimettere Il giorno Tantimente In casino Però Comunque Ragazzi È finita C'è fatta Ora La proviamo A fare Una Viene Qua Funziona Ma la Non sarebbe Comunque Si deve Passare Radio Blu E poi Perché Qui Non si Curva Tipo Qua Ne devi Spuntare Altra Spunta Qui Spuntare Altra Poi Devi Passare Tutto Il meccanismo Quindi Allora Se può Metterli Sopra E allora Facciamo Un attimo Dei piccoli Cambi Ragazzi Stiamo Spacchiato Tutto Tutto Togliamo L'acqua E Vediamo Giorno Qua Li possiamo Anche Togliere E Riprendere I secchiato Quindi Dobbiamo Proteggi I meccanismi Redstone Quello Che mi Stanno Dicendo E Questo Quanto È Difficile Trovere Minecraft Minecraft Quanto Saremo Di video 8 Già L'orio Taglio Ragazzi Taglio Faccio Taglio Qui c'è La serie Del capitano Come Ti ho Detto Ok Bello Ora Mettiamo La notte E vedremo 3 2 1 Gli oblò Si chiudono E la cosa Anche se questo oblò Non si è chiuso Anche se questo oblò Non si è chiuso Però Comunque Non entra È un bug Visivo Ma se noi Facciamo così 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 E la cosa Ne va Bravo Poi se noi Vediamo Quello Blossi Chiude Si dovrebbe Potere Cambiando Delle piccole Particelle Impostazioni Che Io Non mi ero Neanche accorto Che non funzionava Basterebbe Far così Chiudere Proprio qui Chiuso E ora Ti dico Vediamo se funziona Lì c'è l'acqua Normale Lì pure sale Comunque E qui L'oblò Si chiude Perché se non Si chiudeva Succedeva questo Che entrava Tutto Eh certo Mi sembra anche Un pochino Ovvio Comunque se ti chiedi Come ho fatto a mettere Una serie E i miei fan Se lo stanno Credendo Secondo me Piccole mod Perché non esiste Una serie in minecraft Muoio Per questo episodio Vi saluto Ciao